E' arrivato quel momento, link per i dadi gratis, oggi vi lascio il linkone ragazzi, quindi è un gran gran video per voi di oggi, quindi lasciate subito un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché qua deve esplodere questo video, dovete condividerlo assolutamente anche con i vostri amici che so che molti si dimenticano di farlo. E' iniziato finalmente compagni robot, vuoi sapere come ottenere le batterie e completare velocemente questo livello che ti dà 5.000 dadi, un adesivo jolly e una capsula con un pinguino dentro, quindi una bella nuova pedina? Hey, te l'ho spiegato qua, clicca il video e lo puoi scoprire nel chilling. Allora ci sono arrivate un bel po' di richieste di partecipazione, io scorro e seleziono in modo randomico perché molti di voi mi hanno detto sempre Vapor seleziono al primo giorno perché poi non riusciamo ad aiutarti a sufficienza, quindi vedendo la faccia tipo il Mauro raga me la me la gasa, quindi il Mauro gasandomela lo accetto, poi scorro tanto in giù sperando di trovare tipo lo stermone che però non vedo, quindi se non vedo lo stermi raga seleziono uno a caso, tipo allora 12 ore fa, selezioniamo ancora un po' più giù, allora è andata con Stefania o Valentina, non lo so. Secondo me Valentina, ah ma l'ho selezionata io, ho sbagliato ragazzi, se sono andato troppo giù sono andato, ma che caspita ho combinato. Niente raga ho fatto un mega fail, allora buttiamo dentro Patrizio, ok bene Patrizio, cioè dovresti essere molto molto contento. Buttiamo dentro la Maura, anzi il Matteone e poi per mettere anche una ragazza mettiamo Angelica. Ok ho beccato tutti e quattro, speriamo che qualcuno di loro mi aiuti, naturalmente io non sono molto attivo però se qualcuno di voi vuole supportarmi può aiutarmi e farmi ottenere delle ricompense extra. 450 dadi, album di adesivi blu, un pochetto di soldi e altrettante ricompense carine, tipo un emoji bellina, bellina, bella, bella, sta emoji ragazzi me la può gasare. Ok mi hanno già fregato un milione e mezzo, allora se mi freghi già un milione e mezzo sappi che mi fai già arrabbiare prima che inizi il video, quindi non me lo rubare, non me lo rubare. Ok mettiamoci almeno questo miliardo da parte e almeno abbiamo fatto tre potenziamenti carucci. Oggi vi lascio poi il linketto, nonostante questo sarà una giornata dove scagliamo un bel po' perché voglio supportare un po' i ragazzi, quindi un po' di batterie le voglio mettere da parte. Cerchiamo di fare il possibile, fatemi sapere come siete messi su Compagni Robot e se conoscevate questo link per i dadi gratis. Perché parlo di link per i dadi gratis? Perché va bene Vapor, hai fatto un sacco di tutorial, hai spiegato sempre come ottenere i dadi con questo metodo della connessione, il per mille infinito col metodo della connessione, insomma il metodo della connessione penso che l'abbiate capito. Oggi parliamo di un link completamente gratis che ci invia Scopli stessa, quindi colei che ha creato il gioco e che semplicemente andando ogni giorno ci permette a fine mese di portarci a casa tra i 2000 e i 2500 dadi completamente a gratis. Io sinceramente i dati gratis, dato che sono stirato alla canna come potete vedere, stiamo scendendo di numero di dadi in modo allucinante, non me ne privo e ragazzi bisogna portarseli a casa. Che vi devo dire? Sono molto contento devo dire per le batterie che ho preso qua, cioè ho fatto, non so come mai, mi sono ricchezze rottamate, mi ha dato una bella botta di vita. Ho preso un bel po' di batterie, ho preso anche un bel po' di monetozze che sapete come mi fanno sempre star bene e mi fanno goderellare abbastanza. Direi che è arrivato soldi a profusione e qua si gode, col soldi a profusione io godo assai e andiamo col percento. Andiamo col percento senza fermarci in modo tale che secondo me in poco tempo ce la portiamo a casa nel chilling. Benissimo, un miliardo e nove, ricordo che col soldi a profusione qualsiasi, diciamo, cosa che vi capita all'interno del gioco dovete moltiplicare per due i vostri guadagni. Quindi ad esempio una distruzione completa sarebbe un miliardo e mezzo, con questo sono tre miliardi. Quindi capite bene la conversione, molto molto favorevole dal punto della nostra parte. Quindi quando c'è soldi a profusione un consiglio che do sempre, sfruttatela perché vi capita poche volte soprattutto e poi rischiate di piangere quando non c'è perché oggettivamente è molto complicato ottenere delle ricompense buone all'interno di Monopoly Go ultimamente. Ad esempio adesso qualsiasi distruzione che faccio almeno un miliardo e mezzo me lo droppa. Poi è logico, se nella mia giornata fortunata riesco a beccare della gente come questa un po' inattiva e ci butto dentro il 3 miliardi, quindi il max damage nella distruzione, e vabbè. Quella ragazzi è la fortuna del principiante, c'è un qualcosa che capita un pochetto a tutti. Comunque 160 batteria me le porto a casa, mi porta a casa anche un bel pacchetto di adesivi di colore arancione e quindi non piango assolutamente, anzi sono molto molto contento. Allora, questo 8 miliardi e 6 già so che poi devo piangere, quindi iniziamo ad allocarli negli ultimi due edifici, così almeno quei due lì li abbiamo completati, stiamo tutti tranquilli e nessuno deve piangere. Ecco, devo piangere perché qualcuno ha deciso di rubarmi la bellezza di 96 milioni dalla mia fantastica bancarella, non dovevi farlo. Sappi che chiunque tu sia, perché so che qualcuno di voi l'ha fatto, mi ha fatto arrabbiare. Comunque la corsa alla tappa, benissimo, 153. Andiamo avanti col per cento, un bel 9 mi dà il 1 miliardo e 360 che posso prendere tranquillamente da là, dritto con un'altra volta. 7, allora la stazioncina adesso mi aspettavo la rapina ed infatti è arrivata la rapina. La rapina ha grosso vantaggio di essere col per 2, però 4 miliardi e 4 mi racconta un bel poco di niente. Vabbè, sarà un 2 miliardi e 8, un 2 miliardi e 9 indicativamente, più o meno la proporzione ormai la so fare a mente. Ci siamo, ci siamo, va bene. D'altri dadi gratis che prendo dal torneo questa volta, sono 150 dadini, che sinceramente non li butto assolutamente via, anzi 4 miliardi e 6. Allora, boom, poi potenziamo questo qua, potenziamo un'altra volta questo e dovremmo aver concluso anche il terzo edificio. Secondo edificio, doppio clic e siamo messi anche molto bene su quell'edificio lì. Ora, ora come ora, cosa dobbiamo fare? Vabbè, vabbè, corsa alla tappa va bene, ci siamo presi 71 milioni, benissimo. Vincite, le vincite si collegano al video che ho fatto ieri su come ottenere tantissimi vantaggi, come ad esempio il... può essere le batterie o cose di questo genere. Ragazzi, dobbiamo cliccare a stecca, cioè si clicca a manetta, nel mega chilling, non si può fare nient'altro. Poi, devo fare degli scrinnetti che mi possono servire per dei video futuri, perché poi non so se ci saranno ancora, quindi faccio due scrinnetti al volo. Allora, questo scrinnetto qua l'ho fatto, meno male. Ok, almeno questo qua l'ho fatto. Poi devo fare uno scrinnetto anche, vabbè, poi magari chi è che mi sta rubando i soldi? Neanche c'ho il tempo di giocare, che la gente mi deve rubare i soldi. Io non ho parole, veramente, ragazzi, siete assetati di soldi su sto gioco. Andiamo avanti, forziere della comunità, ragazzi, forziere della comunità, legalità. 46 milioni il plafondo, quindi molto, molto, molto lieve come plafondo, cioè quasi ridicolo, aggiungerei. Però, che ci devi fare? Non è che uno può sempre ottenere il massimo delle ricompense, anzi, cioè, ci accontentiamo, ci accontentiamo, non facciamo mica i preziosetti. Per 5, vabbè, molto modesto come forziere della comunità. Cioè, soprattutto dopo che siamo abituati ai nostri soliti. 34 secondi. Uhuh, la rapinozza. Ti prego, me la dai bella golosa, me la dai bella golosa. Cioè, non me la meritavo, però, la piccola rapina. Non me la meritavo, la piccola rapina non me la meritavo. Però, 4 miliardi e 9, secondo me, qua abbiamo giunto il termine. Cioè, di questo, di questo fantastico livello ci dovremmo, avremmo dovuto raggiungere adesso il termine. Perché abbiamo, sì è vero che abbiamo qualche potenziamentino da fare. Però, voglio dire, cioè, li consumi in fretta e ok. Ma te ne rimangono 2 miliardi e quello che ti rimane è buona, cioè, ti rimangono 2 miliardi, li butti nel prossimo livello mappa e ci siamo. Siamo quasi a 8 mila di patrimonio netto. Arriveremo mai a 10 mila? Questa è una domanda che molti si fanno. Sinceramente non so ancora la risposta. Abbiamo raggiunto giardini artistici. Il livello mappa numero 233. E questo per me è già un gran risultato. Perché arrivato fino a questo punto del video si è potuto finalmente godere il link per i dadi gratis. Del quale adesso vi parlo e vi spiego cosa penso. Perché oggettivamente bisogna anche fare un contesto dietro questi dadi gratis. Perché molti non sanno neanche a cosa ci stiamo riferendo. Questo link dei dadi gratis proviene da un gruppo Telegram. Io non so chi di voi ragazzi usi Telegram. Ma è una sorta di piattaforma fatta molto bene. Stile Whatsapp nella quale ci sono vari server. Uno di questi server è gestito dal gruppo. Che mi fornisce le news. Monopoly Go News si chiama appunto. Questi sono i gestori dei vari server. Monopoly Go News. E il link che vi lascerò qua sotto è per entrare in FreeCappedDice. Un server gestito da quelli di Monopoly Go News. Che ogni giorno ragazzi. Ogni giorno. Vedete oggi. Vedete ieri ne hanno messi due. Due link al giorno. Tre link al giorno. Ci forniscono dei link. Che cosa servono questi link? Ad esempio l'ultimo che hanno postato. Ci dice. Clicca su questo link. Te ci schiacci sopra. Monopoly.y.no. Apri. Quindi li date apri. E lui vi porterà su Monopoly. E guardate un po' che cosa succede su Monopoly. Aprite tutti gli occhi. Ti dà questo bellissimo premio. 25 dadi. Che guardate un po'. Vengono aggiunti. E non è che non vengono aggiunti. Anzi. Guardate sotto. Pum. Fino a 79. Calcolo perfetto. Ogni giorno vi potete portare a casa. 25. 75 dadi. Così via. Costituisci i tuoi robot. Altri mille. Ma che caspita mi sta regalando quest'altro. Niente ragazzi. Sto link qua mi ha dato una botta allucinante. Cioè mi ha dato un supporting niente male. Quindi se volete anche voi entrare all'interno di questo link. Vi lascio il link qua sotto. Fantastico. Cliccateci sopra perché secondo me è molto molto valido. Vi mando un bel bacione a tutti. Ci vediamo domani all'ora 14 con un altro contenuto. Cliccate su uno di questi due video che sono uno più bello dell'altro. Ciao belli.